Rimango sempre incantata ad alcuni aspetti della vita, tra questi la potenza e l'immensità della natura e l'amore incondizionato di un cane. Belle è arrivata dopo un infortunio in quello che è stato il periodo più buio della mia carriera. Io ho curato il mio corpo, ma è stata lei ad aiutarmi con immenso amore a guarire la mia anima e la mia mente. E da lei ho imparato che l'amore è necessario in qualsiasi gesto. Grazie a tutti.